amiche amici del corner sampdoriano bentornati allora se dopo Atalanta Sampdoria quattro a zero la domanda era c'è da preoccuparsi e la risposta è stata circa facendo una media di quello che ho percepito dall'ambiente forse al termine di Udinese Sampdoria due a uno la risposta alla stessa domanda è sì siamo ufficialmente imbischiati male nella lotta salvezza io quando registro insomma sono passate un paio d'ore dal termine della gara del Friuli Dacia Arena e quindi non so come sono andati i match del Cagliari del Venezia in questo momento forse neanche lo voglio lo vorrei sapere ma non si sono ancora giocati e ora insomma qui ora la risposta è sì è scattato l'allarme rosso ora c'è da preoccuparsi prestazione sconfortante per insomma tutta per settantacinque minuti diciamo che c'è da salvare forse l'ultimo quarto d'ora del primo tempo più o meno dopo il gol di Caputo addirittura la Sampdoria avrebbe potuto pareggiare ma in ogni caso e l'ha detto in un'analisi al tempo stesso lucida coerente e preoccupante Gianpaolo dopo la partita un approccio del genere trovarsi sotto due a zero e prendersi questa imbarcata totale soprattutto a livello difensivo in una partita di questo peso in questo momento della stagione in questo contesto non è non è ammissibile e io apprezzo il diciamo il mia culpa di Gianpaolo che si prende le sue responsabilità e ne attribuisce anche il giusto ai giocatori purtroppo e lo dico da sostenitore convinto da sempre di Gianpaolo oggi alla Dacia Arena detto del discorso dell'atteggiamento in una gara del genere e nella nel completo nell'errato completamente tentativo di acclimatarsi a uno sconto salvezza abbiamo anche visto i vecchi difetti della Sampdoria di Gianpaolo fase offensiva e fase difensiva oggi sono state entrambe in entrambe abbiamo visto evidenziati i loro punti deboli fase offensiva 4 3 1 2 praticamente con tutti al posto giusto in teoria perché Sensi trequartista Ekdal mediano basso Rincon Ekandreva Mezzali Quagliarella che ha avuto in attacco così come con l'Empoli e difesa fatta di sostanzialmente titolari quindi era tutto giusto dal punto di vista degli undici a disposizione però la Sampdoria è una squadra facile da leggere se l'avversario decide di adattarsi un po' e cercare di metterti sabbia negli ingranaggi questo ha fatto l'Udinese e lo ha fatto molto bene con aggressività con fisicità e in modo anche abbastanza diciamo facile a livello di lettura nel senso che linee molto strette copertura della zona di di finitura tra difesa e centrocampo impossibilità di ricezione quasi sempre da quelle parti per Sensi non è non ha funzionato la mossa di tenere le due punte Quagliarella e Caputo molto larghe così come con l'Empoli proprio perché non c'è stato neanche l'occasione per far entrare i centrocampisti con gli inserimenti in quegli spazi che si aprivano quindi manovra molto molto prevedibile palla quasi sempre addosso quasi sempre incontro e dello stesso problema che abbiamo riscontrato contro l'Atalanta in questo senso per la sua conformazione tattica difensiva l'Udinese ha avuto una giornata semplicissima nel senso che giocando con tre difensori centrali Pablo Marì a coprire a fare un po' il libero vecchio stampo e invece Perez e Becao dall'altra parte a mangiarsi letteralmente così come avevano fatto Toloi e Palomino lunedì oggi stessa cosa con Becao che sembrava Tiago Silva su Caputo e Perez a sembrare non lo so ditemelo voi Cannavaro su Quagliarella tra l'altro anticipandoli sempre l'unica volta ed è successo in modo quasi casuale perché io ora non ho rivisto le immagini ma se non ricordo male il gol di Caputo nasce da un rinvio di Yoshida un po' sotto pressione che non avendo alternative piuttosto che metterla fuori tira un calcione casuale ma potrei sbagliarmi però più o meno è andata così credo c'è il senso è quello palla lunga Becao sorpreso già predisposto per l'anticipo si fa scavalcare e Caputo si butta dentro e segna per il resto invece fase difensiva dell'Udinese molto tranquilla e Sampdoria prevedibile come detto al netto di quell'ultimo quarto d'ora del primo tempo in cui l'Udinese preso il gol ha ballato un po' e la Sampdoria insistendo praticamente sempre a destra perché lì che sviluppava cercando di allargare Candreva e mettere qualche palla dentro era riuscita in qualche modo a se non altro mettersi comoda nella metà campo dell'Udinese cosa che però poi nella ripresa non è non si è ripetuta perché l'Udinese si è messa a posto è ripartita meglio anche nel secondo tempo ha avuto più occasioni anche per allargare il punteggio durante tutta la partita soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo un'altra cosa che ha detto Giampaolo secondo me è interessante come per l'analisi nel senso che lui ha detto che noi non possiamo permetterci di fare fase offensiva con questo sistema di gioco con questa squadra o in questo modo cioè con tanti giocatori se poi anche la fase difensiva non viene fatta con tanti giocatori e qui arriviamo all'altro punto debole cioè la fase difensiva che sappiamo ha come difetto o diciamo come nervo scoperto la possibilità di essere attaccata in ampiezza e andare molto in difficoltà e questo è successo nel senso che Molina e Udogi venivano raggiunti velocemente le nostre mezzali facevano fatica a scalare in più sui lati andavano a farsi trovare facilmente Deulofeo che ci ha veramente fatti a fette oltre a segnare il gol che ha sbloccato la partita spesso si associava anche per Eira insomma la domanda che mi sono fatto a un certo punto è ok loro stanno meglio però a livello di giocatori di qualità loro ne hanno due che sembrano incontenibili appunto Deulofeo per Eira soprattutto noi abbiamo Sensi ma Sensi non lo troviamo mai perché loro sempre ricezione comoda sempre pronti a farsi trovare smarcati Sensi tra le linee praticamente mai impossibile trovarlo perché l'udinese schermava Wallace peraltro ha fatto un partitone calamitando un sacco di pallone palloni davanti alla difesa quindi la conclusione a cui arriviamo che credo sia abbastanza inquietante è che la Sampdoria si trova degli avversari fisici e o che le fanno la partita addosso nel senso che si adattano un po' per annullarle la annullarne la fase offensiva e sfruttarne le debolezze difensive la Sampdoria va in difficoltà e non ha piani B né in un senso né nell'altro forse difensivamente sì perché Giampaolo da quando è tornato qualche volta ha messo la difesa a tre un modulo un po' più coperto offensivamente non ci sono alternative perché e questo lo ha dimostrato il fatto il secondo tempo che abbiamo visto cioè con i cambi la squadra è peggiorata ulteriormente dal punto di vista offensivo non siamo più riusciti a entrare nella tre quarti l'udinese se nel primo tempo qualche volta era accaduto nella ripresa mai questo perché non c'è una prima punta di peso inorganico la palla lunga e quindi il gioco un po' sporco sulle seconde palle non lo possiamo fare e questo è grave chiudo questo ragionamento con l'altro lato della medaglia cioè quando troviamo squadre che sono fisiche e ci adattano e ci inibiscono le fonti ci inaridiscono le sorgenti di gioco andiamo in difficoltà dall'altro lato questa cosa è confermata dal fatto che le due partite che la Samp di Giampaolo ha vinto sono state contro invece avversari che giocano aperti che giocano eh offensivi e quindi si configura uno scontro diciamo alla pari dove la Sampdoria sta meglio e se la può giocare poi con l'Empoli con il Sassuolo poteva finire diversamente però sono state due vittorie arrivate secondo me anche per questo motivo detto dei cambi che non hanno funzionato da salvare pochini forse nessuno Falcone per l'ennesima volta quello che doveva fare l'ha fatto bene e poi io mi terrei le prestazioni di Yoshida e Rincon poi per il resto poco e niente anche Sabiri quando è entrato doveva anche servire perché avendo un buon un buono stacco di testa poteva andare a disturbare i difensori dell'Udinese sulle palle alte ma non è successo non ha mai azzeccato il tempo dello stacco da terra abbiamo intravisto Giovinco ma anche lui si è andato a a imbottigliare in quel grande intasamento che c'era dalle parti insomma davanti alla difesa dell'Udinese ancora più stretta col centrocampo nella parte finale della partita quando la Samp ha provato a raggiungere il pareggio in vano adesso arriva una partita con la Juve e poi lo scontro salvezza col Venezia mi permetto di dire non è ancora arrivato il momento di andare a cercare i colpevoli c'è da restare tutti uniti a remare tutti dalla stessa parte si sta forse verificando ora quello che all'inizio era rimasto un po' sopito c'è il dibattito su Gianpaolo sì Gianpaolo no non è questo il momento stiamo compatti ci sono due partite vitali da cui capiremo molto sulla finale di stagione che ci aspetta grazie per essere arrivati fin qui aspetto i vostri commenti qui sotto grazie a tutti